Volete godervi il film della vita con gli amici, rivedere il filmino del matrimonio, una partita oppure un concerto o organizzare una conferenza? Il tutto in una vera e propria sala cinematografica su comode poltrone con tanto di maxischermo? Da oggi potete con una spesa di 300-400 euro. Nel cuore di Bari il Multicinema Galleria infatti appena ha inaugurato una nuova sala, la settima, che permetterà non solo a tutti gli amanti del cinema di avere uno spazio ulteriore, ma appunto anche ai privati di poter vivere le emozioni che solo una sala cinematografica può trasmettere. La capienza è di 58 posti, disposti su 9 file da 6 posti ciascuno e le esclusive poltrone, oltre ad essere distanziate l'una dall'altra di 110 cm, sono parzialmente reclinabili. Si è badato al comfort, insomma, anche nei dettagli. Il pavimento è in parquet e la numerazione delle file è segnalata da un LED luminoso nel pavimento. La nuova sala, unica a poter trasmettere solo in digitale, non è però l'unica novità del Galleria. Oltre alle rassegne già in corso e alla trasmissione di grandi eventi live, il gestore Francesco Santa Lucia ha ricordato la possibilità di acquistare e stampare biglietti da computer, evitando le code e i botteghini, e la convenzione con il parcheggio Gesty Park di Piazza Cesare Battisti, che permette di godere di una tariffa agevolata.